Ma che bontà! Questi straccetti di pollo con i funghi sono cremosi e sono morbidissimi! Versate in una padella dell'olio Unite lo spicchio d'aglio tagliato a metà e infinsato nello stecchino Pulite i funghi e tagliateli a fettine Versateli poi in padella Aggiungete anche del prezzemolo tritato Un pizzico di sale E un goccio d'olio Mettete sul fuoco e fate cuocere per 15 minuti Poi togliete lo spicchio d'aglio Infarinate gli straccetti di pollo Versate il burro in una padella e fatelo sciogliere Unite poi gli straccetti infarinati e fateli dorare girandoli più volte Quando saranno dorati aggiungete il brodo e proseguite la cottura Unite poi i funghi precedentemente cotti, mescolate e fate insaporire Super cremosi e super facili Servite gli straccetti ben caldi e con la sua cremina E ora non vi resta che provarli E se lo faccio io Lo puoi fare anche tu Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti